Sarà la prima volta di una messa in galleria Vittorio Emanuele e sarà un'occasione del tutto speciale per le tecnologie innovative messe in campo, per le sinergie che renderanno possibile questo evento, ma soprattutto per ciò che verrà trasmesso in diretta. La celebrazione solenne della beatificazione di Giovanni Battista Montini, Papa Paolo VI che fu arcivescovo di Milano. Rito dunque in piazza San Pietro, presieduto da Papa Francesco, ma con legamento in galleria dalle 10.20 alle 12.30 di domenica 19 ottobre, attraverso la proiezione in 4K. L'evento si avvarrà dalle immagini trasmesse dal centro televisivo Vaticano e viene promosso dalla Diocesi con il sostegno del Comune di Milano, in collaborazione con l'Officine della Comunicazione, Sony, Eutelsat, RTL. Per la prima volta in diretta live in Italia una produzione in 4K da piazza San Pietro al salotto milanese che è la galleria. Abbiamo già fatto altre produzioni in 4K sperimentali perché appunto in Italia non abbiamo ancora la possibilità di una diffusione, questa volta invece sarà proprio una diffusione live. Progetto complesso, basti pensare che in 4K non si trasmette con i normali canali, ma con uno satellitare specificatamente dedicato, o che la galleria non verrà chiusa anche durante la proiezione, o che ancora il carroponte ideato ad hoc per la ristrutturazione dall'impresa per Cassi e messo a disposizione da Prade Versace monterà uno schermo che arriverà in altezza fino quasi alla copertura stessa della galleria. A Milano questo appuntamento non poteva e non può mancarlo, tra l'altro siamo orgogliosi di offrire a questo evento una galleria quasi rinnovata e che quindi abbiamo l'onore di ospitare questo momento importante. Inoltre in preparazione alla beatificazione in Sala Alessia Palazzo Marino si terrà mercoledì 15 ottobre a partire dalle 18 un convegno a più voci dal titolo Montini e la sfida di Milano. Ingresso gratuito ma è necessario iscriversi. Tutte le informazioni su www.chiesadimilano.it DVD che sarà in edicola da giovedì 16 ottobre con Famiglia Cristiana e con Credere.